In attesa delle direttive nazionali, anche la protezione civile di casa nostra spalanca le porte dell'accoglienza ai profughi afghani. Si tratta innanzitutto di uno slancio umanitario, ma in più c'è la componente della riconoscenza. In Afghanistan, infatti, non è mancato a suo tempo l'appoggio locale, quando si era trattato di dare una mano ai militari italiani. Noi personalmente abbiamo contattato i nostri referenti regionali, che a loro volta parleranno con il nazionale, perché sentivamo la necessità di fare qualcosa, però in modo organizzato. Ritengo che sia un nostro dovere, perché queste persone che dobbiamo ospitare sono quelle che hanno dato una mano ai nostri militari nel periodo della pacificazione, si sono messe a disposizione, oggi rischiano la vita. È un nostro preciso dovere, praticamente, accogliere, chissà per quanto tempo, anche per tutta la vita, e farle inserire delle persone che ci hanno dato una mano forte quando siamo stati noi in Afghanistan. Le intere famiglie vanno accolte, perché sarebbe assurdo dividere le donne dai propri uomini e dai propri figli. Noi dobbiamo cercare di fare una cosa fatta bene e secondo i crismi. Domani teniamo una riunione del Consiglio. Parleremo sicuramente anche noi con le nostre 200 associate, solo per la provincia di Salerno, e cercheremo anche con il Centro di Servizio per il Volontariato di mettere su, sicuramente. Lì abbiamo poi associazioni che già fanno accoglienza e le quali sono già, come dire, abituate a risolvere queste problematiche. Noi diamo già una mano a tutti quelli che hanno bisogno, ma sono afgani, sono italiani, vengono d'altrove. Se una persona ha bisogno, ha bisogno. E in più noi abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti di queste persone. Non ci scordiamo, perché hanno dato una mano e chissà quante volte hanno messo in salvo con le loro conoscenze anche i nostri militari.